I Lamborghini Premium 1100 e 1300 sono apprezzati nel mondo agricolo per la versatilità e per la versatilità in campo e in azienda. Trattori maneggevoli e confortevoli, con un ottimo rapporto peso-potenza e un motore infaticabile. Alle caratteristiche peculiari di Premium 1100 e 1300 si aggiunge un importante dispositivo che semplifica il lavoro del conducente, aumenta la produttività e facilita il controllo del trattore. È l'inversore idraulico a gestione elettronica che, riducendo al minimo i gesti di chi guida, provvede con grande fluidità ad invertire il senso di marcia, evitando in pratica l'uso della frizione. L'unico comando necessario è la leva, in posizione ergonomica sotto il volante. Senza azionare il pedale frizione, basta un semplice movimento per partire ed il sistema elettronico modula automaticamente la pressione nella camera della frizione idraulica. L'innesto graduale elimina strappi e scossoni, anche perché è regolato in funzione del carico. Anche il cambio marcia avviene senza azionare il pedale frizione. Le manovre e quindi il lavoro sono continui, perché è possibile invertire il senso di marcia anche sotto carico. Nell'insilaggio e nella movimentazione aziendale, le frequenti azioni di inversione si svolgono così nella massima comodità, rapidità ed efficacia, con movimenti sempre fluidi e progressivi. Già da una velocità di 10 km orari è possibile invertire il senso di marcia risparmiando tempo e la precisione dell'elettronica provvede al resto. Chi guida può concentrarsi meglio sul proprio lavoro, che diventa più efficace e produttivo. Questo sistema di gestione e controllo presenta, tra gli altri, anche il vantaggio di salvaguardare tutti gli organi meccanici della trasmissione, prolungando di fatto la vita del trattore. Come le due frizioni multidisco in bagno d'olio, una per ogni senso di marcia, che garantiscono maggior durata e affidabilità. Con trattore fermo, ma con motore in moto, non occorre disinserire la marcia, ma basta spostare la leva in posizione di neutro. Prezioso in azienda, l'inversore idraulico inverte tutte le marce, dimostrandosi insostituibile anche in altre condizioni lavorative. Sui terreni collinari, per fare un esempio, la possibilità di invertire il senso di marcia sotto carico e senza soluzione di continuità, consente manovre rapide e disinvolte, impossibili con i tradizionali inversori. Anche se il trattore è in pendenza, l'inversione è rapida e la ripresa della marcia progressiva. Per rendere ancora più chiaro e immediato il controllo della situazione, un display visualizza con LED luminosi lo stato dell'inversore e della velocità multispeed selezionata. Lamborghini Premium 1100 e 1300 con inversore idraulico sotto carico. Il lavoro cambia direzione.